Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del telegiornale è dedicata alla sanità gelese. Il sindaco Domenico Messinese fa un bilancio della situazione e lancia un appello. Sentiamo. Presa di posizione del sindaco di Gela Domenico Messinese sull'assetto che riguarda la sanità locale. Il primo cittadino segue gli sviluppi che interessano l'ospedale Vittorio Emanuele e lancia un appello ai rappresentanti politici del territorio presso l'assemblea regionale siciliana. Avviene un ridimensionamento di molti altri reparti. Io vorrei ricordare che la malattia effettiva di fatto è stata declassata, il potenziamento dell'oncologia sul vario livello diciamo che non viene potenziato pur riuscendo a dare comunque un buon servizio grazie ai medici stessi. La breast unit a quanto sembra ci sono dei problemi di declassamento come anche l'utin. Io non vorrei sembrare pessimista ma non voglio minimizzare sicuramente questi segnali che arrivano che è di un minore attenzione su una cosa importantissima che è la salute pubblica. Ed è per questo che credo che sia importante che all'Ars non si ragioni solo con la colcolatrice ma si ragioni pensando che ci sono dietro quei numeri delle persone e delle persone che vi sono problemi seri, importanti, che esulano da quelli che possono essere delle asettiche valutazioni contabili. Ed è per questo che è importante che i nostri rappresentanti all'Ars pongano la massima attenzione per un territorio che di fatto già negli anni ha avuto poca attenzione sull'ambito sanitario. La sanità siciliana viene decisa a Palermo ed è chiaro che quando vengono tolte risorse economiche al territorio di Gela, quando vengono annunciate del ridimensionamento e che non hanno uguali nelle altre parti della Sicilia, devo dire che sicuramente il nostro territorio viene fortemente penalizzato ed è qui che i nostri rappresentanti devono fare valere quei nostri diritti che sono uguali a tutti gli altri. Mi sembra giusto che prendano una posizione in primis e che facciano quegli incontri abituali che fanno a Palermo per tante altre cose ma non per problemi che sono proprio di competenza dell'Ars. Quindi il mio sollecito a coloro che sono demandati a rappresentare la città di Gela, il territorio di Caltanissetta perché ricordo che anche Niscemi e Mazzarino stanno avendo grossi problemi, di portare queste istanze a livello regionale e di confrontarsi con tutto il territorio. Dura denuncia del SAP, il sindacato autonomo di polizia sulla reale capacità di contrasto al crimine nella città di Gela a causa della mancanza di personale negli organici del commissariato. Secondo il segretario provinciale del SAP di Caltanissetta, Carmelo Marino, sempre più spesso capita di dover assistere a questo tipo di conversazione telefonica quando un cittadino chiede soccorso, aiuto, polizia, ci sono i ladri in casa e dalla sala operativa la gente in servizio sempre più spesso si vede costretta a rispondere mi dispiace abbiamo esaurito personale e mezzi da inviare in soccorso oppure mi dispiace la pattuglia è impegnata in un altro intervento, un incidente stradale. Per il SAP a Gela esiste un problema sicurezza e bisogna affrontarlo. I vertici del commissariato per carenze di organico troverebbero difficoltà enormi a coprire le esigenze del territorio e allora il SAP fa appello a quanti hanno il potere di distribuire su tutto il territorio provinciale le forze di polizia e in particolare al sindaco di Gela, al presidente del Consiglio Comunale. La proposta è quella di estendere anche alle ore serali e notturne il servizio delle squadre della Polizia Municipale a dette rilevamenti degli incidenti stradali nel territorio urbano in modo da liberare poliziotti e carabinieri da questi compiti e impegnarli nel controllo del territorio. Per questo il SAP chiede di convocare una seduta monotematica del Consiglio Comunale per discutere di sicurezza e garantire tranquillità a chi lavora senza rischiare estorsioni, incendi dolosi nella notte o di morire intossicati e bruciati mentre si dorme. Adesso parliamo del sondaggio che riguarda la classifica dei presidenti di regione più amati dai propri cittadini, ultimo classificato Rosario Crocetta. Sentiamo. Peggiorare non era facile, eppure Rosario Crocetta c'è riuscito. Passare dal penultimo posto all'ultimo assoluto nella speciale classifica dei presidenti di regione più amati dai propri cittadini amministrati è davvero un compito arduo che il governatore della rivoluzione, più che altro sulla carta, è riuscito a centrare con pieno merito. Sì, di merito in questo caso si può parlare. La rinomata agenzia demoscopica Index Research, tra le più serie e gettonate della penisola, come ogni anno stila questa particolare classifica, intervista telefonicamente i cittadini di tutte le regioni italiane e chiede il livello di gradimento dell'operato del proprio presidente. Ebbene, lo scorso anno il nostro concittadino Crocetta raggiunse l'assai poco invidiabile per l'ultimo posto in classifica con il 32% di gradimento tra i siciliani contattati da Index Research. Quest'anno il governatore gelese è riuscito nell'impresa di fare anche peggio, ultimo e solo nella speciale classifica. Appena il 28% degli intervistati ha dato un parere positivo sull'operato del presidente Crocetta. Al primo posto invece svetta il governatore della Puglia, Michele Emiliano, con il 58% dei consensi. Alla secondo posto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, con il 56% dei consensi. E al terzo posto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, con il 54% dei gradimenti dei cittadini liguri. Crocetta invece è stato clamorosamente bocciato dai siciliani, i quali, solo per la modesta cifra del 28%, hanno dichiarato di essere soddisfatti dell'azione portata dal nostro concittadino alla guida della Trinacria, effettivamente sempre più in crisi sotto ogni aspetto. A margine di questa impiatosa classifica stilata scrupolosamente da Index Research, della cui, se d'età, nessuno si è mai lamentato, anzi, va fatta una considerazione di natura squisitamente politica. Ossia, lo scorso anno, quando Crocetta risultò penultimo di questa gradatoria, il leader regionale del PD, Antonello Cracolici, all'epoca ipercritico di Crocetta, ebbe a dichiarare pubblicamente che al presidente Gialese era andata persino bene a classificarsi penultimo. Poi, però, magicamente, Cracolici cambiò opinione su Crocetta e guarda caso, ne divenne assessore della sua sgangherata giunta. Ci chiediamo se oggi, alla luce di questo nuovo trionfo dell'operato di Crocetta e del suo governo regionale, all'ondivago Cracolici non si è venuto un briciolo di rossore in faccia. Ma forse per maturare il rossore in faccia bisognerebbe avere un minimo di dignità, qualità persa o forse mai avuta da questa politica che ci mal amministra e mal governa. Siamo alla cronaca di due arresti e di quattro denunce. Il bilancio dell'attività della Polizia e del locale commissariato negli ultimi giorni, manette per Giovanni Rinzivillo, 28 anni, e per Fabrizio D'Aleo, di 21, destinatari di un provvedimento emesso dalla procura di Enna. Devono espiare in carcere rispettivamente sei anni e quattro mesi e cinque anni e dieci mesi per tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali commessi il 2 gennaio del 2014 ad Enna. Un gelese di 31 anni è stato segnalato per lesioni personali e stalking nei confronti dell'ex compagna. Un ragazzo di 19 anni dovrà rispondere per l'ennesima volta di guida senza patente. Un 58enne accusato di lesioni personali e un catanese di 63 anni è stato denunciato per danneggiamento. L'ufficio della Polizia Amministrativa e Sociale ha eseguito dei controlli nei locali di intrattenimento del lungomare del centro storico. Ispezionate due attività, elevata un'infrazione, controllate 21 persone. È Luigi Di Dio di Reset 4.0, il nuovo presidente della Commissione Cultura di Gela. Prende il posto del consigliere Salvatore Sammito di un'altra Gela che si è dimesso dalla carica per sopraggiunti impegni professionali. Un gran galà dedicato all'arte e alla musica è perfettamente riuscita. Ieri sera l'iniziativa Vivere a Colori promossa dal primo istituto comprensivo di Gela diretto da Rosalba Marchiciana. Appuntamento nell'anfiteatro di Albani Roccella. Uno spettacolo offerto alle famiglie, dei studenti e a tutta la città. La conclusione di un triennio è l'inizio di un nuovo triennio. Raccogliamo i frutti di ciò che abbiamo seminato e cominciamo a pensare alto. Io questa sera l'ho pensata non solo come una serata per il primo istituto comprensivo ma una serata per la città perché questa scuola e soprattutto l'ubicazione, la logistica, questo splendido anfiteatro non è noto a tanti. E allora ho cercato di dare voce ai miei ragazzi e occhi ai miei ragazzi perché pur essendo una scuola ubicata in una zona periferica ho avuto modo di scoprire in questi tre anni essere una scuola frequentata da ragazzi dalle mille risorse. La scuola ha sostenuto e promosso il progetto Music Lab realizzato con i proventi dal concerto tenuto lo scorso 17 aprile dal pianista Alberto Ferro al Teatro Eschilo. I soldi raccolti sono stati destinati all'acquisto di strumenti musicali. Non vedevo l'ora di partecipare a questo evento appunto molto fondamentale per la città che tra l'altro coinvolge anche tanti giovani. Infatti vedo anche questa location spettacolare, questo anfiteatro dove appunto è la prima volta che vengo qui e quindi sono veramente molto contento per questo spettacolo. Un messaggio ai giovani che hanno cominciato ad intraprendere il percorso virtuoso dello studio della musica? Certamente è una vita difficile però quello che posso consigliare io è di avere tanto coraggio e di non mollare mai perché è una vita piena di sacrifici infatti come li ho fatti io, li fanno tanti i miei colleghi. Io credo fermamente nella musica, per me è la base di ogni cosa. Se noi vogliamo tirare fuori il meglio di noi stessi, i nostri veri sentimenti, attraverso la musica ci arriviamo con più armonia, con più grazia, con più bellezza e riusciamo ad apprezzare la bellezza vera della vita. Durante l'iniziativa di Risera si sono esibiti l'acquisto di gruppo di Marco Puvato con un saggio di Notre Dame de Paris e il coro polifonico Perfetta Letizia presieduto da Giuseppe Failla e diretto da Melissa Minardi, quadruvata dalla pianista Nuccia Scerra. Anche gli alunni hanno proposto le loro esibizioni che hanno accuratamente preparato con i loro insegnanti. Ai nostri microfoni sentiamo l'assessore comunale all'istruzione, Licia Abela. Assessore, una grande festa questa sera al primo comprensivo ma effettivamente il clima festoso ha coinvolto un intero quartiere. Sì, un intero quartiere che abbraccia e celebra l'inizio di quest'anno scolastico con entusiasmo, con felicità così come è giusto che sia. Abbiamo colto l'occasione, porta dalla dirigente Rosalba Marchiciana per trasformare questo in un vero e proprio evento che possa essere utile non solo alla scuola ma ad un quartiere intero che spesso ha vissuto nell'abbandono e nel dimenticatoio veramente dei cuori di tutti noi. Quindi invece oggi diventa un momento conviviale, un momento che ripeto, come ho già detto prima diventa solo l'inizio di una serie di utilizzi che ci auguriamo questo teatro possano essere fatti diverse manifestazioni. Assessore, in quanto come soggetto dell'aggiunta politica che si occupa dell'istruzione, quindi di tutte le questioni che sono legate alle scuole, ha già fatto un giro in tutti gli edifici scolastici, si è già resa conto di quali siano le criticità e quali sono le emergenze sulle quali lavorare nell'immediato? Stiamo sicuramente attenzionando tutte le situazioni che si verificano nelle varie scuole. Io ho sentito un po' tutti i dirigenti, ho già risolto nei limiti del possibile quei problemi che ovviamente si manifestano all'inizio delle attività scolastiche e pian piano stiamo per risolverli. Ovviamente quello che preme sono i servizi, avviare i servizi, avviare il servizio mensa che ormai partirà sicuramente a breve in tempi utili rispetto sicuramente al grave danno che è stato fatto rispetto all'anno scorso. Quindi un'attenzione continua, un dialogo continuo con tutti i dirigenti scolastici, questo è senz'altro il punto di partenza che mi voglio augurare, possa essere fuori di tutti i risultati positivi per tutti gli istituti di Gelo. Il suo augurio a tutti gli studenti e a tutti coloro i quali lavorano nelle scuole. È chiaro che il mio saluto e il mio augurio di buon anno scolastico va a tutti, a partire dagli studenti e a fine dal personale ATA per passare a tutti coloro i quali collaborano in maniera diretta o indiretta nelle scuole. Che sia un anno, ripeto, fondato sulla collaborazione, sul sorriso e sull'abbraccio che una città come Gela merita di avere perché dalle scuole che partono le eccellenze che poi conosciamo, da Alberto Ferro a Monica Contrafatto, tutti devono essere liberi di esprimere la loro potenzialità e quindi quale miglior intervento può esserci se non quello nelle scuole dove appunto si formano i nostri ragazzi. Prima riunione per il neocomitato di quartiere Vecchia Stazione Carrubazza preseduto da Salvo Camiolo. I promotori del comitato sono Angelo Martinez, Emanuele Tandurella, Giovanni Battista Pirone, Rosa Pirone, Deborah Giannone, Salvatore Nicastro, Francesco Lacognata, Rocco Arena e Luigi Cucchiara. Il comitato, spiega Salvo Camiolo, nasce spontaneamente da un gruppo di cittadini promotori che si sono ritrovati uniti di fronte all'obiettivo di contribuire a migliorare le condizioni del quartiere che oggi vive una situazione molto complessa presentando forti segni di disagio sociale ed economico. Tutti i cittadini residenti e commercianti possono partecipare al comitato aderendo alle riunioni popolari ed elaborando suggerimenti e proposte concrete e operative. Gli scopi principali saranno l'interesse per il bene comune, vivibilità, sicurezza con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, degli anziani e delle famiglie. Il gruppo di promotori ora avrà il compito di organizzare le elezioni che si svolgeranno entro 90 giorni dal giorno della Costituzione del Neocomitato per la Costituzione del primo Consiglio Direttivo. Seguirà poi l'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. La fuga di Catania apri pista per nuovi ingressi in giunta e la chiave di lettura che il giornale dà alle dimissioni dell'assessore e l'esigenza del Sindaco di trovare nuovi consensi in consiglio sarebbe la vera ragione di una mezza rivoluzione nell'esecutivo e questo è l'argomento di apertura. Ancora politica con il resoconto della seduta consigliare di martedì a firma di Nello Lombardo. Il viaggio di Zeira Placenti nell'universo femminile impegnata in politica questa settimana si sofferma su Virginia Farruggia del Movimento 5 Stelle. Nella sua rubrica Politicamente scorretto, Giulio Cordaro solleva l'assenza in città di una pista di atletica leggera e nelle pagine interne articoli e servizi di attualità e cultura firma di Lucrezia Ferro, Cinzia Sciagure, Franco Lauria. C'è la pagina delle aste giudiziarie e lo sport con le finestre sul Gele e sul Terranova a cura di Orazio Accomando e Zeira Placenti. In ultima, come sempre, la pagina degli annunci economici gratuiti. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, termina qui la prima parte del nostro telegiornale. A tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale in occasione della festa della Madonna del Parto che si venera nella chiesa di Sant'Agostino di Gela. Si terrà domani alle 17.30 la benedizione delle mamme in attesa preseduta da Monsignor Corrado Loreficio, arcivescovo di Palermo e dal vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana. L'animazione della celebrazione eucaristica è stata affidata al Centro di Aiuto alla Vita e al Coro Cor Unum saranno presenti i soci del Sor Optimist di Gela, le socie del Sor Optimist di Gela che nel 2012 hanno fatto restaurare l'antica immagine. Alle 19 presso la parrocchia di San Sebastiano si terrà la celebrazione eucaristica e l'insegnamento sulle opere di misericordia tenuta da Monsignor Lorefice. Inoltre sabato 15 e domenica 16 ottobre prossimi presso la chiesa di Sant'Agostino arriveranno dal santuario di Cascia le reliquie di Santa Rita. Il reliquiare in quest'anno giubilare sta visitando tutte le chiese del mondo dove si venera la Santa dei casi impossibili. Conferenza stampa oggi al Comune al fine di presentare la nuova stagione teatrale all'Eschilo di Gela. Nomi importanti nel cartellone che partirà il prossimo 8 novembre. Sentiamo il direttore del teatro Franco Longo. Franco Longo siamo in esordio della quinta stagione teatrale al Teatro Eschilo di Gela. Quattro anni di successi e speriamo di replicare anche quest'anno. Sicuramente sì, sicuramente sì, andrà bene, sarà un grande successo. Già i primi sentori ci danno tranquillità ma soprattutto perché abbiamo scelto una stagione molto molto valida. Abbiamo ritardato un pochettino ma finalmente abbiamo trovato dei nomi che quest'anno dovrebbero accontentare tutto tutto il pubblico. E quindi si partirà giorno 8 novembre con un nome della televisione italiana in realtà che ha fatto molto discutere ma che ha deciso di mettersi in gioco con grande autoironia. Assolutamente sì. Allora, quando noi parliamo di due nomi come Ugo Pagliai sappiamo che è ormai una delle ultime eccellenze del teatro italiano e poi recita con un signore bravissimo come Gabriele Garco dice ma come? Gabriele Garco, fiction televisive, festival di Sanremo, gossip. Eppure no, è una coppia riuscitissima in teatro proprio perché stanno facendo questa operazione che è divertente, è una commedia divertente e già dalle prime vendite dice che sta facendo il tutto esaurito. E questo è l'apertura. Insomma, apriamo già con i fuochi di artificio. Nove serate in tutto ma con delle sorprese in arrivo forse. Abbiamo già, abbiamo delle altre proposte però questo è fuori abbonamento. Intanto parliamo dell'abbonamento così il gelese, chi ci segue anche da fuori Gela dai paesi limitrofi sa già che c'è questo abbonamento. Però Work in Progress ci dovrebbe essere qualche altra sorpresa con qualche altro nome importante. Il teatro Eschilo va crescendo, va crescendo soprattutto in qualità. Per gli amanti del programma di Milli Carlucci Ballando con le stelle arriva Raimondo Todaro per mamme e figlie. Poi c'è un grande nome come Mariangela D'Abraccio una delle donne più talentuose che il teatro italiano abbia mai conosciuto. Tuccio Musumeci torna, Enrico Guarneri, Marco Bocci un altro nome molto importante Pippo Pattavina, un altro grande attore della scuola catanese e infine uno spettacolo che veramente potrà mettere insieme tutta la famiglia, quattro donne e una canaglia con nomi importanti che lascio dire a lei. E allora i nomi sono Marisa Laurito, Corin Clary, Barbara Busce Gianfranco D'Angelo e la partecipazione di Paola Caruso. Sono nomi messi insieme proprio per fare uno spettacolo esilarante che sta girando tutta l'Italia e che, tanto per fare un esempio sarà a 15 giorni al Teatro Nuovo a Milano e già da ora per il prossimo febbraio al Tutto Esaurito. Noi speriamo con le due date soltanto di avere pure il Tutto Esaurito. E intanto il sindaco e l'assessore alla cultura sottolineano l'importanza della presenza del teatro comunale a Gele che annunciano probabili novità. Sindaco, il Teatro Eschilo di Gela con il suo cartellone continua a crescere, ad offrire certamente una serie di spettacoli di grande qualità. Sì, ma non solo a Gela, ma devo dire su tutto il territorio circondario perché ci sono persone che ci vengono a fare visita pure dai paesi vicini perché devo dire che a Gela si riesce a fare teatro o teatro di qualità come è giusto che ci sia nelle città importanti, nelle città che hanno un occhio particolare per questa forma d'arte che, devo dire, bisogna avvicinarsi per potersene appassionate. L'arte e la cultura sono molto importanti per una comunità che vuole crescere a tal punto che sarebbero necessari altri posti, altre poltrone all'interno del Teatro Eschilo perché talvolta ai noi non bastano. Sì, il teatro cresce ogni anno, è un teatro che si fa sempre più importante in una città, rappresenta veramente un elemento centrale di crescita culturale dei propri cittadini. Noi riteniamo che il Teatro Eschilo si sta avviando in questa direzione e ogni anno lo dimostra sempre più, sino al punto che mancano dei posti. Il teatro si riempie sino al punto da rendere necessario ulteriore ampliamento. Ampliamento fisico della struttura architettonica non è possibile, però è possibile incrementare il numero dei posti. Ma su questo ci stiamo lavorando. Dipende ovviamente dal bilancio, dai limiti e dalle esigenze complessive della città, però è un'esigenza di cui siamo assolutamente consapevoli e alla prima occasione certamente lo faremo. E' scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'antidoto di Macchitella a Gela. Il cartellone che comincerà il prossimo 23 novembre prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco. Per informazioni bisognerà rivolgersi ai numeri di telefono 3-3-8-7-1-4-3-2-9-3 oppure 3-3-0-2-2-5-4-4-2 oppure 0-9-3-3-8-2-27-0-7. L'abbonamento intero costerà 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. Adesso parliamo di sport, c'è il calcio, derby domani per il Gela. La formazione di Pietro Infantino ospiterà la capolista Ige Virtus. Vediamo. E' arrivato il giorno del derby con l'Ige Virtus. Domani alle 15 l'arifatto manto erboso tra Vincenzo Vresti ospiterà la gara con la capolista del Girone. Una partita che promette spettacolo. Si incontreranno due squadre che stanno attraversando uno straordinario periodo di forma. E in classifica sono divise soltanto da quattro punti. Domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Il bomber che non ti aspetti, l'Ucraino Kosovan, già tre gol in cinque partite. Una grande partita. Arriva possiamo dire la capolista, però comunque siamo solamente alla stessa giornata che arriva. L'entusiasmo è tantissimo. L'obiettivo è la vittoria. E domenica speriamo ci sia una bolgia da attenderci. Kosovan è contentissimo del gruppo in cui si trova una vera e propria famiglia. Si è dimostrato in campo. Comunque nelle ultime quattro partite siamo andati a non perdere mai, a dimostrare sempre di essere una buona squadra, compatta, forte, con tanta fame. E poi i gol mi hanno aiutato tanto e sicuramente i compagni più di tutto, quello sicuro. Il gol più bello è quello che deve arrivare. Esatto. Si spera domenica un bel gol sotto la curva. Non basterebbe nessuno. Facendo un passo indietro, andando domenica scorsa, ma quel gol che hai realizzato direttamente sul calcio di punizione, ma ci credevi che la palla era entrata? È stata una bella... Mi sono svegliato come per dire a cavolo, ma cosa è successo? Mi è andato giusto una punizione così. Era tanto che attendevo, durante la settimana si prova sempre, però non pensavo che potesse entrare così forte. Soprattutto quando ho preso l'attraverso, non ci credo, però alla fine è entrata, è stata un bel gol, una bella soddisfazione. Un gelo umile, ma che mira ad obiettivi importanti. Sinceramente io rimango con i piedi per terra, sono qui da poco e noi siamo una squadra umile che ha fame e ha voglia di vincere. Noi pensiamo a vincere ogni partita, sicuramente. Questo è l'obiettivo, di dare il massimo ogni domenica, ottenere il massimo da noi stessi, da quello che ci circonda, portare entusiasmo, portare tanta voglia in questa città e poi si aspetta ogni domenica perché la perseveranza è la cosa più importante e perciò si fa passo dopo passo, non si può pensare in grande sicuramente. A partire da domani? A partire da domani, che è una cosa davvero, non ve lo esprimo, perché è una carica veramente enorme per questa grande partita. L'Associazione Italiana Arbitri indice il corso nazionale per arbitri di calcio per la stagione sportiva 2016-2017. Le iscrizioni dovranno essere accolte tramite le 211 sezioni dislocate sul territorio nazionale entro il 31 ottobre prossimo. Per la provincia di Caltanissetta saranno organizzati due corsi di cui uno a Gela, promosso dal referente AIA Riccardo Zagarini, possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di entrambi i sessi che siano cittadini della comunità europea che abbiano compiuto alla data dell'esame il quindicesimo anno di età. Al termine del corso il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all'esame, prova che prevede dei test scritti orali sul regolamento del gioco del calcio e un test di idoneità atletica. Per informazioni 093-911-109 oppure 338-4596-071. La riserva naturale Biviere di Gela e l'Associazione Polisportiva Equestre Gela Peglago Biviere organizzano per domani alle 9 Cavalchiamo il Lago Biviere. Si tratta di un raduno di cavalieri che si terrà nella riserva naturale. I cavalieri solitari o iscritti ad associazioni avranno modo di scoprire a cavallo angoli suggestivi della riserva lungo un tragitto avventuroso ideato per l'evento. Adulti e bambini che per la prima volta vorranno avvicinarsi al mondo dell'equitazione avranno modo di provare a montare un cavallo e poni messi a disposizione gratuitamente dall'Associazione Peglago Biviere per informazioni ci sono dei numeri di telefono 340-9950726 oppure 345-6612743 è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui a tutti voi un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti